Integrazione a tavola ci ha pensato l'amministrazione comunale di Onore che ha organizzato per venerdì 13 agosto Onore e Sapori, una serata all'insegna del gusto che si svolgerà a partire dalle 19.30 sul piazzale del mercato a riparo da eventuali precipitazioni. Sarà una serata gastronomica regionale e internazionale con assaggi di piatti tipici del Friuli, della Sardegna, della Campania, della Calabria, del Pakistan e Marocco, un modo per avvicinare culture diverse e al tempo stesso scoprire sapori per molti sconosciuti. Non hanno esitato neanche un attimo ad aprirci le loro porte per dare la possibilità alla gente di Onore, ma anche ai villaggianti, di assaggiare dei piatti tipici delle loro zone. Siamo diversi nel modo di vestire, nel modo di parlare, anche le nostre culture sono diverse provenendo comunque da paesi diversi, però sappiamo che intorno ad un tavolo riusciamo ad essere un po' più amici e un po' più fratelli. Partire dall'altro per conoscersi, questo è l'obiettivo della serata nella quale i residenti si impegneranno i fornelli con qualche sacrificio di troppo, come per gli amici musulmani praticanti, che nel corso del mese di Ramadan iniziato in queste ore devono astenersi dall'alba al tramonto, dal bere, mangiare, fumare e dal praticare attività sessuali. Non possiamo più mangiare tutto il giorno finché viene via proprio il sole, allora non penso che sarà un grande problema perché al massimo si può anche assaggiare, non assaggiare proprio il senso di assaggiare, però per vedere se un pochino, proprio per tenere in regola proprio il gusto più che altro. Facciamo il tagine marocchino di prugne con la carne, è un tipo di tagine che si mangia il dolce e il salato allo stesso momento, con un pochino di mandorle e di sesamo. Al termine della cena farà seguito il racconto sulle vie del Mediterraneo, che con l'esibizione del gruppo Girovagando e dei balli folcloristici concluderà la serata.